In particolare feci un Sanremo, il mio primo Sanremo. Fortunato che arrivai il quinto, poi per me era una conquista fare Sanremo perché sono musicista tra virgolette, insomma, particolare, insomma, siamo, si stiamo ricordando che negli anni settanta, a metà degli anni settanta, tutto questo era pressoché sconosciuto oggi per persone, world music, è tutto molto, ma allora insomma si era un po' Si faceva un po' fatica, in qualche modo, a presentarsi su questi strumenti perché tutti stavano con la chitarra con il pianoforte, e così nacque un pezzo strano che ho chiamato perché Sinuel, Sinuel era in realtà un venditore di amici che stava sotto casa mia andando, tutti lo chiamavano e Sinuel, e lì vendeva le amici, prima che ricordo sotto casa mia si sentivano le voci dei venditori ambulanti, oggi non si sentono più, c'era quello che vendeva la foglia di fico con il giulso amore e il venditore di amici, poi c'era l'agrotino, che si sentiva la voce dell'agrotino, insomma, casa mia era costellata, il balcone di casa mia era costellata da voci della mattina bellissime che gheggiavano nell'aria, così nacque questo pezzo. Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!